vive di sole e forte emozioni ma anche il cuore di pietra dite che è impossibile no se vi chiamate erbe barmas e il vostro cuore fatto con la pietra della montagna cioè del cervino una sera una sera la montagna più bella del mondo io potevo anche dire semplicemente la montagna la montagna perfetto perché uno dice la montagna e pensa al cerino allora non perché allora ho detto bene spero cuore di pietra perché quella è la montagna di erbe barmas quella la montagna che festeggia quest'anno un compleanno importante 150 anni alla prima scalata però come dicevo è la montagna per antonomasia se uno vuole spiegare come una montagna in qualsiasi parte del mondo dice il cervino del pakistan ecco il cervino della patagonia il fitzroy il cervino dell'india lo shivling sì il cervino è una montagna perfetta perché è una piramide perfetta quattro creste e quattro pareti ed è sicuramente l'unica montagna che viene utilizzata diciamo il suo nome viene utilizzato come aggettivo per descrivere altre montagne ma al di là di questo si è sempre detto che il cervino anche per chi non lo scala anche per chi lo guarda dalla sua base dalla base la parete o da zermatt o da brei cervinia diciamo non lascia indifferenti nessuno al potere seppure fatto di ghiaccio roccia e neve al potere di entrare nel cuore delle persone e ognuno vive un sentimento un ricordo di questo cervino che avrà visto avrà scalato insomma ognuno il suo io mi faccio subito un amico ma siamo all'inizio quindi mettiamo in chiaro le cose cervino è bello però la parte più bella è nostra da zermatt uno spettacolo speciale non solo la parte più bella è vostra perché più slanciata e più lineare e più femminile se vogliamo un eleganza differente mentre dalla parte italiana diciamo che pochettino più tozzo e diciamo che comunque l'icona che rappresenta il cervino del mondo comunque è la vostra e anche una montagna che ha tanti figli i figli della parte svizzera sono i fratelli antamatten e i figli della parte italiana sono i bar massi si diciamo che nel corso delle generazioni di guida alpine e alpinisti c'è sempre stato un periodo diciamo che mette sempre in contrapposizione ma in amicizia diciamo è un personaggio di zermatt è un personaggio magari della val tournage e ci sono i fratelli antamatten in cerve bar mass prima però c'è stato marco bar mass c'è stato un nonno gino bar mass luigi e anche un bisnonno dunque quattro generazioni di guida alpine parleremo di queste di queste generazioni però herve diceva è una montagna che ti entra dentro io ho detto il suo cuore fatto con la pietra del cervino e non sono frasi fatte perché perché quando suo papà il 21 dicembre del 1977 partiva per scalare la parete ovest del cervino lui dava la prima occhiata e veniva al mondo si appunto sono stato anche chiamato figlio del cervino perché per le persone soprattutto allora il 77 trovavano difficoltà a capire come un padre nel giorno forse uno dei giorni più importanti della sua vita non voleva vedere nascere suo figlio ma aveva fretta di andare a scalare la prima invernale di questa grande parete la ovest che la più grande in assoluto del cervino però in realtà insomma mio padre penso che non abbiamo fatto un torto a nessuno ora sono alpinista e lo capisco e non c'è nessun rammarico anzi vi dico sempre che ha fatto la scelta giusta mia madre no ma madre chiaramente la pesa in modo differente ci credo ma sostanzialmente il papà di herve stava preparando il campo perché poi quella parete quelle pareti le andrà a scalare regolarmente con con suo figlio e magari anche con suo papà sì diciamo che il cervino torna nella mia vita come torna anche mio padre esatto che qui vedete proprio mio padre in vetta con suo padre a sinistra e un cliente in cima al cerino il cervino torna la nostra famiglia in modo regolare il mio padre l'abbiamo scalato assieme per la via normale italiana di nuovo in inverno e lì ho capito che avrei voluto fare l'alpinista perché scalare il cervino d'inverno quando non c'è nessuno c'è una magia c'è una sensazione differente emozioni differenti e il panorama i colori tenui dell'inverno rendono tutto un po speciale e da lì in poi il cervino è tornato ed è tornato anche dopo tanti anni nel 2010 dove con mio padre abbiamo formato questa cordata insolita per aprire una via nuova proprio sulla parete su del cervino tant'è vero che questa via ha preso anche il nome bar massi giusto sì si chiama couloire bar massi in realtà noi lo chiamiamo couloire dell'anjambe perché aveva quel nome prima che qualcuno riuscisse in quella impresa noi ci siamo riusciti i giornalisti hanno dato il nome couloire bar massi beh rimane così insomma padre un figlio stesso cognome va bene dai un padre che penso sia particolarmente orgoglioso dire un padre che è orgoglioso ma che ultimamente dovuto forse alle mie scalate solitarie gli vedo crescere sempre qualche ruga in più dunque si preoccupa c'è la preoccupazione anche perché lui ha mangiato montagna alpinismo per tanti anni dunque conosce anche un po i pericoli rischi il papà portava hirvè porta hirvè nei posti che più ama hirvè fa la stessa cosa comunque con chi ama magari lo porta o la porta in a scalare dei punti particolarmente significativi si diciamo che il servino serve anche come come cura se vogliamo nei momenti difficili è bello portare qualcuno che ti amico o la tua compagna che sta sorpassando magari dei momenti difficili e secondo me il servino ripeto lascia qualcosa dentro e dunque è un po una montagna terapeuta e consiglio veramente alle persone di salire o dal versante svizzero al versante italiano ricordiamo che dalla nostra parte c'è meno gente confusione è un po di competizione comunque c'è ma prima di parlare di questa competizione avete già capito quanto davvero questa montagna anzi scusate la montagna sia nel cuore di hirvè ci fai capire quanto sia magico il profumo della neve del cervino ecco il profumo della neve è una cosa che che ci si abitua semplicemente se tu nasci montagna e vivi la tua esistenza in montagna la neve sembra in un profumo della neve non è in colore perché comunque bianca però in realtà un profumo tenue quasi con la sensazione di umido che riesce a entrare nel naso in modo veramente leggero e in realtà si riconosce si distingue molto bene però è una di quelle sensazioni che secondo me riesce a sviluppare col tuo istinto seguendo comunque un percorso di vita che ti ha visto diciamo vivere la montagna da quando nasci magari per cent'anni la competizione tra magari un personaggio di zero un personaggio che arriva dall'italia però questa competizione quest'anno 17 luglio punto del 2015 vuole dire a 150 anni e tre giorni dalla prima scesa sul sul cervino diciamo questa questa lotta è stata messa a tacere perché qui tanti tante guide tanti alpinisti hanno deciso di stipulare un amicizia finalmente dopo 150 anni ma si in realtà ci si è accorti riguardando la storia dopo 150 anni che in realtà non c'è mai stata competizione tra l'italia e la svizzera c'è stata una sorta di di litigio messo in scena in realtà da quelle che erano le testate giornalistiche del loro e soprattutto da londinese wimper come questa grande lotta per la battaglia per la conquista ma si è anche visto hanno compreso anche gli svizzeri come wimper utilizzasse le guide non solo le guide italiane jean antoin carrel ma anche i tauwalder tanto è vero che wimper è lui che conquista il cervino ma sono i tauwalder i responsabili della tragedia allora la storia viene rivista si inizia a dare il giusto peso ai giusti valori a zerma riconoscono il grande ruolo e l'importanza di questo jean antoin carrel il pioniere il primo che nel 1857 tenta la sua scalata e si capisce che in realtà le guide alpine sono sempre state coloro che wimper e successori hanno accompagnato i clienti e hanno rischiato la loro vita per il desiderio di chi portavano in montagna di chi voleva conquistare il cervino una spiegazione perfetta esemplare si fa alpinismo per confrontarsi con la natura non con l'uomo ecco questo patto serve anche a spiegare questo a chiarire una volta per tutto tutto ciò io lo spero in realtà l'alpinismo sta subendo un po dei cambiamenti nel senso che si usa la montagna per competere col cronometro si usa la montagna per competere con un altro alpinista in realtà la montagna dovrebbe servire solo per capire e comprendere i propri limiti ed è per questo che a tutti viene permesso di vivere una grande avventura c'è l'alpinista professionista che può essere barmas che apre la via nuova al cervino ma una grande avventura è anche andare a scalare la via normale perché una persona che ha magari meno opportunità di frequentare la montagna non dico meno capacità però vuole scala il cervino per la via normale in realtà mette in gioco le sue capacità non è capace di intendere se sarà in grado di raggiungere la cima anche se la via semplice e questo un po confrontarsi coi propri limiti attraverso la montagna ed è questo che rende secondo me l'alpinismo differente da qualsiasi attività sportiva è unico nel suo genere limiti che erano ancora enormi per un personaggio che ha citato prima hervé vuol dire carel che dal versante italiano era pronto ad arrivare sul cervino solo che tre giorni prima dall'altra parte lo anticipo whimper poi in quella vicenda che ha caratterizzato anche forse la prima vera grande tragedia della montagna si e zermatt soprattutto una ricorrenza di cent'anni il sindaco di zermatt di allora ricorda come in realtà il cervino non diventa famoso per la sua prima salita ma diventa famoso per la tragedia e soprattutto perché la regina d'inghilterra vieta i sudditi di scalare il cervino perché non si non possono morire i suoi sudditi su una montagna è tempo perso dunque questa storia viene ripresa dai giornali di tutto il mondo si sparge la notizia il cervino già montagna bellissima diventa anche richiamo su semplicemente per andare a vedere là dove questa tragedia era successa e così il cervino diventa veramente la montagna del mondo Jean Antoine Carrel in realtà è sempre rimasto amico di whimper queste cose non vengono tanto spiegate hanno partecipato a delle spedizioni nel sud america assieme hanno scalato il cervino dal versante svizzero dalla via dell'early assieme whimper tenta più volte di scalare la via normale italiana con carrel anche dopo la conquista ma non ci riesce carrel muore da eroe portando in salvo un cliente whimper muore da solo in una stanza di sciamoni probabilmente per così poi sensi di colpa di quello che era successo durante la prima la prima scesa erve è cresciuto a pane e cervino anche perché i tuoi genitori avevano un ristorante nella casa dove era cresciuto carrel si la casa di carrel è stata prima una casa e poi un ristorante dei miei genitori dunque in realtà ho vissuto ho respirato qualcosa insomma la stessa area che respirato carrel allora la montagna il cervino un bar mass non può che diventare un alpinista eppure pure herve ha provato a fare qualche cos'altro ha provato a andare in picchiata in discesa se avessi stato un grande discesista se un infortunio non ti avesse stoppato però l'amore per lo sci è rimasto perché pochi giorni infatti abbiamo visto sì un tuo tweet i complimenti a freddy cabignone che ha vinto il suo primo gigante a sulden beh lo sci è l'unico rammarico che ho nella mia vita non è un grande rammarico perché poi adesso mi vede protagonista in non è uno sport in un qualche modo in modo differente in montagna però lo sci per me era importantissimo poi a 16 anni ho avuto un grave incidente e quel grave incidente che mi ha portato a avere sei operazioni le ginocchia fatto sì che poi io cambiassi semplicemente direzione al posto che scendere e salire le montagne però lo sci alcuni protagonisti lo sci c'è federica in realtà ci sono anche tanti campioni svizzeri coi quali facevo le gare quando eravamo più giovani che ricordo volentieri dunque lo sci rimane una passione lo seguo volentieri una passione esagerata per lo sci una passione smodata per le due ruote anche se non ha la moto però ha portato anche la bandiera di valentino rossi proprio nei giorni in cui si discuteva per il contatto con marquez qui l'hai portato dove ma sì qui siamo nel gruppo del monte rosa su una cima di 4.200 metri una passeggiativa ma si era un giorno nel quale mi allenavo però sì ma non è la passione tanto per la motocicletta ma quanto per il personaggio ci sono tanti numeri uno però pochi sono campioni federer è uno per dire e agassi lo è stato se prendiamo un altro tenista cioè sono quei campioni che lo diventano perché vivono dei grandi momenti di gloria ma vivono anche delle grandi cadute hanno il coraggio di rialzarsi e questo poi funziona di ispirazione di motivazione per le persone normali perché poi tutti noi nel nostro piccolo nel nostro lavoro nel nostro campo nella nostra famiglia abbiamo queste oscillazioni e avere qualcuno che comunque ci dimostra che si può tornare si può ci si può rifare secondo me è molto importante poi insomma le ripeto le gare si vincono e si perdono i campioni però secondo me sono delle persone che hanno a mio avviso un qualcosa in più da raccontare d'accordissimo allora abbrignone valentino rossi tutti dei solitari come è diventato un po hervé barmas in montagna però sempre poche settimane fa hai tweetato una foto molto significativa i due alpinisti un passaggio di una borraccia e citato il passaggio della borraccia tra coppie bartali sì questa foto l'ho scattata a un una guida svizzera è un cliente secondo me molto significativa e reinol mesner bonatti anche altri grandi alpinisti del passato dicevano che il modo migliore per vivere la montagna è la solitaria perché l'uomo si confronta uno a uno come rapporto e dunque insomma vivi veramente il tuo limite nel confronto di qualcosa che più grande di te perché la natura rimane sempre più grande dell'uomo mai dimenticarlo mai dimenticarlo ma io non penso che sia migliore anzi secondo me la solitaria ti regala anche delle grandi fregature perché tu vivi l'esperienza della paura da solo e dunque questa diventa diventa amplifica si amplifica diciamo in montagna e la gioia in realtà tu non la descrivi le emozioni che provi difficili che qualcuno ti capisca se non ha vissuto esattamente la stessa esperienza e dunque secondo me il modo migliore è sempre quello di condividere la montagna e questa foto secondo me rappresentava bene la condivisione anche quando diventa sfida ricordando proprio quei due grandi personaggi del ciclismo ed è fede lo avevo pensato da questo punto di vista una bella fregatura la solitaria curiosità ma sì sinceramente tra voi alpinisti c'è rispetto rivalità zero al quota che cosa c'è? l'alpinismo sta cambiando e stanno cambiando anche i personaggi e c'è sempre stato molto rispetto però anche grazie o almeno purtroppo grazie ai social network adesso inizia a esserci tanta invidia però i grandi campioni dell'alpinismo come gli alpinisti della domenica che normalmente sono le due categorie all'opposto ma sono quelle che hanno più passione per la montagna a mio avviso perché quando vedo la gente che lavora tutta la settimana e si sveglia alle 4 del mattino per andare a montagna quell'unico giorno che possono andare in montagna nei loro occhi vedi la passione vedi luccicare brillare questi occhi ecco tra queste persone normalmente questo non succede c'è solo la voglia di condividere le proprie esperienze in montagna e secondo me questi sono gli alpinisti al di là che compiano delle grandi imprese o semplicemente passeggiano nei boschi alla base delle montagne la passione la state vedendo negli occhi di Hervé Barmas la vedete negli alpinisti della domenica come ha ricordato Hervé la vedete negli occhi duellistec è esattamente la stessa idea avuta da Patrice Berro non ho voluto fare un progetto dove avevo l'assillo del tempo ad ogni salita anche perché bisognava tenere conto della meteo ho detto che l'avrei fatto in 80 giorni perché tutti mi chiedevano quanto avrei impiegato ero stufo di rispondere a questa domanda e quindi ho detto 80 giorni è vero ho voluto ripetere quanto tentato davvero e l'idea originale è la sua hai portato a termine questo viaggio con tua moglie e con tanti amici è giusto dire che questo progetto è stato in un certo senso un ritorno al passato inizialmente questa spedizione volevo portarla a termine con Michael Wolleben avremmo dovuto essere noi due con Dani Mader che si occupava della logistica purtroppo Michael dopo cinque cime ha dovuto abbandonare e quindi i presupposti sono mutati ma questo paradossalmente ha reso il progetto geniale perché ho potuto scalare le montagne con persone differenti con colleghi amici e con mia moglie questo ha dato quel non so che in più alla storia è stato molto importante per me poter vivere questa attraversata con queste persone fondamentali sono state le esperienze vissute tutti assieme in montagna negli ultimi anni quando si parlava di me mi si associava sempre alle salite in tempo di record il fattore tempo non è mai stato il più importante per me maggiore valore ha sempre avuto l'esperienza vissuta quest'estate ho fatto esperienze diversificate ho arrampicato con mia moglie con amici che magari non erano degli alpinisti esperti e quindi riducevo la velocità ho condiviso salite con Andy Steindl con il quale potevo invece forzare il ritmo ho fatto 30 cime da solo tutte queste diverse sfaccettature hanno permesso la realizzazione di un bel viaggio tu hai cercato spesso di spiegare alla gente le tue imprese in Himalaya ma l'impressione è quella che nessuno comprenda veramente quello che fai pensi che la prossimità delle alpi avvicini la tua imprese ai comuni mortali evidentemente sono di più gli alpinisti che hanno salito i 4000 metri rispetto a coloro che hanno superato quota 8000 cercare di spiegare alla gente quello che faccio in Himalaya è impossibile non riesco a spiegare cosa ho fatto sulla parete sud della napurna non ci riesco non riuscirei a farlo nemmeno se parlassi con un altro alpinista parliamo di un luogo così lontano è impossibile comprendere per quel che riguarda il progetto di quest'anno è chiaro che ci sono diverse persone che hanno già salito un 4000 ed è quindi più semplice capire il tutto ciò nonostante mi dico che io non salgo le montagne per permettere agli altri di capire quello che faccio lo faccio perché mi piace farlo e il resto non mi interessa dopo l'ascensione in solitaria sulla napurna hai avuto un periodo difficile avevi anche parlato di burnout dopo questo progetto hai l'impressione di esserti riavvicinato e riappacificato con l'alpinismo questo progetto mi ha rimotivato è stato un viaggio interessante è stato bello ritornare a scalare le Alpi devo essere sincero ogni giorno al risveglio avevo voglia di andare in montagna l'ho sempre fatto con estremo piacere alla fine ero triste mi spiaceva che il tutto fosse già finito è stato un bel progetto che mi ha fatto ritrovare l'amore per l'alpinismo come è possibile impedire che le persone vogliano imitarvi ad andare in montagna ad esempio con le scarpette da ginnastica non c'è pericolo di emulazione è l'eterno tema ci sono persone che pensano beh se loro scalano un 4000 con le scarpette da ginnastica lo possiamo fare anche noi in fin dei conti ognuno di noi è responsabile per la propria vita ognuno deve saper decidere anche io noi non possiamo andare ogni volta con le scarpette leggere dobbiamo valutare volta per volta beh anche gli altri devono essere in grado di decidere cosa sono in grado di fare e cosa è impossibile da realizzare faccio un paragone se la domenica vedi delle gare di Formula 1 questo non significa che puoi sfrecciare a 120 km orari attraverso il tuo villaggio è una questione di responsabilità e ognuno deve decidere per sé a un certo punto della sua carriera Reinhold Messner ha deciso di andare nel deserto per invecchiare meglio e sono parole sue Bonatti ha invece scelto l'esplorazione hai l'impressione che prima o poi anche tu dopo aver sperimentato la dimensione verticale estrema vorrai dedicarti a quella orizzontale sempre estrema naturalmente non so ancora cosa mi riserverà il futuro quello che è chiaro è il perché alpinisti come Messner o Bonatti non sono mai morti in montagna perché a un certo punto hanno detto basta è impensabile continuare a confrontarsi con la montagna spingendo sempre oltre i propri limiti se lo fai prima o poi ti capiterà l'incidente quando scali devi accettare una presa di rischio sempre e comunque anche durante la traversata delle Alpi quando sali cime che non sono difficilissime dal punto di vista tecnico il rischio si accumula e prima o poi devi avere il coraggio di dire basta quando arriverà il momento per me di fare un passo del genere e cosa farò dopo non lo so ancora forse andrò anch'io nel deserto o forse no vedremo tra una decina d'anni cosa ha significato dal punto di vista emotivo ed emozionale poter condividere una parte del progetto con tua moglie? per me è stato stupendo è stato bello perché era la prima volta che condividevamo un progetto mi ha fatto enorme piacere ed è stato speciale forse non ci capiterà più di salire assieme una montagna in uno dei miei progetti alla fine mi sono fatto una bella risata sono partito di notte ed era a buio pesto ho iniziato a correre sapevo che dovevo andare nella valle dove c'è il glacier blanc c'era un cartello con indicati sia il glacier blanc sia il glacier noir ero sicuro di dover andare a sinistra e l'ho fatto ho corso e corso fino a quando mi sono reso conto che c'era qualcosa che non funzionava mi trovavo in fondo alla valle ed avevo corso per due ore la mia pancia mi diceva che avevo sbagliato ho guardato sul navigatore ed effettivamente avevo imboccato la valle sbagliata ho imprecato e poi sono ripartito a passo di corsa alle 7.30 ero di nuovo al posteggio da dove ero partito e ho imboccato l'altra valle con il senno di poi mi sono fatto una bella risata può succedere e non è stato così tragico ho fatto la strada più lunga ma è stato un bene altrimenti la mia giornata sarebbe stata troppo corta quello che mi rimarrà di questo progetto saranno i ricordi di un'estate molto belle dove ho corso molto, dove mi sono divertito un mondo è stato bello poter andare in montagna, pedalare, correre ogni giorno il tutto mi ha fatto molto piacere e mi è piaciuto molto bene e mi è piaciuto molto bene e mi è piaciuto molto bene il tutto si fa e i giocatori ma i tutti i suoi nomi sono stati ma i misteri Hellen è cominciato piccolo grande è un'esercito che sia l'impresa quando l'alpinista ne parla nei suoi occhi leggiamo quelle emozioni di cui parlavamo prima. Sì, quello è il bello della montagna ed è quello che secondo me fa la differenza tra chi ha veramente la passione. Tutti noi nella nostra vita abbiamo una parabola come atleti ma come persone normali nelle quali riusciamo a correre, a muoverci più in fretta, a scalare montagne difficili ma inesorabilmente per tutti questa parabola prima o poi scende. Ma se hai passione per la montagna, passione per la vita, passione per il tuo lavoro secondo me quando ne parli gli occhi brillano e quello secondo me è qualcosa che esce dal cuore. I grandi sono anche quelli, anzi sono soprattutto quelli che sanno dire basta come ricordava Hashtag, ha ricordato Bensner, ha ricordato Bonatti a un certo punto con un certo tipo di impresa hanno detto basta. Sì, è vero, si deve anche sapere rinunciare, in realtà soprattutto Bensner ha costruito l'alpinismo sul senso di rinuncia dove lui ha sempre detto che il vero limite lui l'ha raggiunto quando è tornato indietro, non quando è riuscito nella sua impresa e poi c'è un momento dove uno deve dire ok per me è ora di guardare altrove. In realtà Bensner ha saputo guardare altrove prima negli spazi orizzontali come aveva fatto anche Bonatti in un modo un po' diverso, Bonatti più esplorativo e poi lui si è dato alla cultura della montagna ancora oggi con i suoi musei cerca di portare cultura della montagna ed è giusto così, ognuno deve trovare altre sfide la vita non è fatta solo di sport, è fatta di tanto altro e soprattutto secondo me gli alpinisti devono fare cultura della montagna. Io pensavo che il momento per dire basta arrivasse quando sei costretto a scaldare il piede con la fiamma è stata un'immagine per chi soffre freddo inconcepibile parlavi, citavi Mesner Mesner è anche quello che ha detto io voglio essere ricordato come non l'alpinista che ha centrato quelle imprese ma come l'alpinista che ha fallito più volte anche questo è significativo? Beh è significativo perché ti dà l'idea di come in realtà l'alpinista non si ripete il fuoriclasse ma cerca sempre sfide nuove questo ricercare sempre sfide nuove non fare mai la stessa cosa ti porta anche a vivere dei grandi fallimenti e questo però ti dà la dimensione del personaggio e abbiamo visto Ulistec Ulistec avesse continuato solo a fare i record non sarebbe secondo me il grande alpinista che ha dimostrato di esserlo da sempre ma ancora di più secondo me con la sua impresa alla Napurna ma anche con la sua sensibilità nel dire ho fatto un viaggio sulle Alpi ed è stata una delle cose più belle e significative della mia vita Tornando a Mesner Mesner è sicuramente un grandissimo è un alpinista che ha un'altissima considerazione di se stesso le male lingue dicono un po' meno per chi è arrivato dopo di lui mica vero perché per Hervé Barmas nutre una stima pressoché infinita perché? forse perché siamo entrambi montanari è troppo facile questo come risposta ma non lo so questo dovremmo chiederlo a lui diciamo che per me è stata una sorpresa Mesner come dicevi tu molti lo amano ma c'è anche chi lo odia è difficile trovare una mezza misura con lui io penso che sia una persona che non dica mai parole a caso che abbia una cultura generale non solo della montagna importante grande e secondo me quando non ci sarà più sarà un problema per l'alpinismo perché non ci saranno più dei riferimenti e quell'alpinismo che lui identifica come alpinismo classico quello di cui si portava voce faceva da portavoce anche Walter Bonatti c'è il rischio che vada a sparire in realtà l'alpinismo classico è l'alpinismo non esistono altri cioè l'alpinismo moderno è quello che si concentra sui numeri ma le qualità dell'alpinista che ti portano ad alzare la tua prestazione tecnica in realtà è normale che si evolvano e che ti portano a sorpassare quei limiti ma in realtà le qualità dell'alpinismo dell'alpinista come velocità e tecnicità ti portano o dovrebbero portarti a affrontare sfide che l'uomo non ha mai immaginato quello che faceva lui io ti chiedo scusa perché noi stiamo chiacchierando spiero piacevolmente ma adesso è da qualche minuto che non stiamo parlando di lei della montagna del Cervino torniamo a parlare un po' del Cervino? volentieri parliamo in modo particolare di un record di un'impresa perché Hervé è stato il primo a concatenare le quattro creste in inverno adesso non sminuire la cosa dicendo sì insomma alla fine ma no è un progetto che è nato dopo aver vissuto altre esperienze come dicevo prima si deve sempre cercare qualcosa di nuovo in montagna io ho aperto delle vie nuove più di una le ho aperte d'inverno le ho aperte in solitaria ho fatto la ripetizione di itinerari che si pensava potessero essere scalati solo in cordata l'ho fatto da solo e dunque guardandomi attorno soprattutto sul Cervino dicevo se voglio evolvermi devo cercare qualcosa di nuovo e quel qualcosa di nuovo è stato va bene faccio un bel giro un bel periplo di questa montagna lo faccio d'inverno e l'ho fatto in un inverno molto nevoso il più nevoso dal 1950 ma io dico per fortuna non per sottolineare la difficoltà ma perché oggi diventa un po' strano parlare degli invernali perché poi in realtà vediamo queste stagioni che non assomigliano più tanto agli inverni in un tempo a me è andata bene e ho vissuto questa esperienza poi qualcuno parla delle 17 ore le 17 ore il tempo impiegato a fare questo giro ma in realtà quello è semplicemente la conseguenza di una buona preparazione senti ma è un caso è che qualche anno prima 1985 un bar mass con catenò le 4 creste ma in estate in 15 ore se non ricordo male Papa Marco sì sì erano altri tempi lui ha fatto un'impresa più grande soprattutto per il materiale che aveva nel senso che lui scalava ancora con gli scarponi grandi di plastica e la corda di emergenza nel caso era comunque la corda da 12 mm lui lo ha fatto io in realtà non ho cercato di emularlo di ripeterlo semplicemente io mi sono chiesto cosa si poteva fare sul Cervino di nuovo per me e casualmente hanno combaciato non solo lo stesso tipo di progetto anche se lo ha fatto d'estate e io d'inverno ma anche gli anni abbiamo affrontato la stessa sfida con la stessa età e anche questa è una cosa speciale un legame ancora maggiore tra un padre e un figlio l'alpinismo è cultura l'alpinismo è soprattutto emozione l'alpinismo è anche scegliere di raccontarsi senza senza veli scegliere di raccontare soprattutto gli alti e i bassi e soprattutto i bassi mi sembra di poter dire nella montagna dentro o ho sbaglio? no è giusto ma perché io dico sempre che in amicizia in amore siamo tutti amici e siamo tutti innamorati quando le cose vanno bene quando le cose non vanno tanto bene allora lì si vede il carattere della persona e anche l'umiltà della persona di affrontare delle sfide che lo portano comunque a confrontarsi con dei problemi che ti prendono che ti emozionano anche in maniera negativa la difficoltà nella vita li abbiamo tutti e dunque io ho usato semplicemente il mio campo l'alpinismo come sfondo per raccontare quelle che sono state le mie sfide più grandi che non sono state quando simbolicamente ho piantato la bandiera su una cima inviolata o le quattro creste del cervino si parla anche da bambino esatto e quando tu devi rialzarti e le mie sfide in realtà sono iniziate così molto giovane proprio con quell'incidente sugli sci e ce ne sono state altre e poi volevo un po' spiegare che gli alpinisti non sono degli eroi chi pensa che gli alpinisti siano eroi sta sbagliando di grande siamo persone normali con i propri difetti le proprie paure e anche la grande voglia di vivere che poi è quella che deve rimanere la felicità e la voglia di vivere avete capito adesso a distanza di qualche minuto perché Valentino Rossi piace tanto a Hervé Barmasi perché ha voluto raccontare gli alti ma soprattutto i bassi perché insomma risalire è sempre difficile ma è stato difficile anche scriverlo perché so che hai voluto scriverlo da solo e ti è costato tanta fatica da questo punto di vista sì troppa fatica perché da un certo punto di vista mi sono allontanato dalla montagna per cinque mesi perché ero in ritardo con la scadenza e dunque mi sono dovuto mettere a scrivere tutti i giorni perché secondo me non è vero che devi aspettare l'ispirazione ma ci sono dei giorni dove ti concentri scrivi una frase e dei giorni ti concentri scrivi due pagine ed è stato difficile perché proprio alla fine del lavoro forse perché è troppo immerso nella mia storia e mi chiedevo chi l'avrebbe mai letto e ero proprio detto ma chi lo leggerà questo libro occhio e croce tanti esatto in realtà poi c'è stata la sorpresa ma forse proprio perché ripeto non mi presento come un super alpinista mi presento come un alpinista della domenica o più che altro una persona semplice allora alpinismo ricapitoliamo è cultura è emozione è letteratura adesso è anche un reality sinceramente fuori dai denti c'era bisogno le reality io non lo posso giudicare nel senso che ci sono gusti ognuno di noi può amare o odiare un certo tipo di trasmissione che dovrebbe fare cultura lì ho già avuto modo non solo io anche mesdare anche altri pianisti non di criticare dunque l'idea la scelta della televisione italiana in questo caso di ambientare scusate non l'ho detto un reality nella zona del monte bianco esatto però la realtà non viene assolutamente raccontata e soprattutto le guide alpine e io faccio parte dell'artegoria sono anche istruttore delle guide alpine in realtà hanno distrutto il primo grande unico fondamentale valore della categoria delle guide alpine che in montagna non si compete perché comunque sia per quanto vado in sicurezza e tutto da questo reality show deve emergere un vincitore ma in montagna non si vince non si perde si vive la propria sfida e normalmente non si insegna a correre a battere un cronometro al cliente gli si insegna a fare sempre molta attenzione e dunque manca il valore secondo me più profondo e l'unico grande valore che dovremmo sempre tutti trasmettere soprattutto i professionisti nella montagna ai propri clienti dunque per me se devo scegliere no non ce n'era bisogno grazie Erwe Barmas